Non perché la mia sorella è una persona speciale, chi ama animali penso sono le persone più buone al mondo e chiediamo solo, non dico un accanimento, però la giustizia, quello che deve essere fatto, non è più né meno perché chiudere tutto con un nulla di fatto non mi sembra giusto. Eleni ha perso la vita nel novembre 2019 in via di Ristradella nei pressi di Olmo in un drammatico frontale, aveva 29 anni e una grande passione per gli animali diventata poi una professione. Eleni è una persona speciale, è una ragazza che chi la conosce, chi ha avuto fortuna di conoscere lo può confermare, lavorava al canile, volava bene ai animali, ai cani, ai gatti. Quel giorno stava andando al lavoro quando un'auto che proveniva in direzione opposta invase la corsia di marcia e la colpì in pieno. Per la morte della ragazza è finito a processo un 49enne a retino, oggi si è svolta l'udienza preliminare, fuori dal tribunale una manifestazione organizzata dai familiari e dagli amici di Elenia. Ti chiediamo solo giustizia, io posso capire che soffre di questa malattia del sonno, non so come si chiama, ma non mi riesce a capire come mai non se ne era accorto prima, questo non mi riesce a capire. Il 49enne finito sul banco degli imputati ha chiesto un rito abbreviato condizionato da una perizia. La relazione del consulente incaricato dalla difesa ha spiegato che quel giorno l'uomo sarebbe stato colto da un colpo di sonno improvviso dovuto a una patologia, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Anche il legale della famiglia di Elenia a sua volta ha depositato una memoria nella quale prende in esame la dinamica che ha portato al violento impatto puntando il dito sulla velocità. E' stata determinante ai fini di causare la morte della povera Elenia perché ricordiamo che la via degli stradella è una strada stretta dove c'è un limite in posto di 50 km orari, piena di buchi e avvallamenti dove spesso si verificano degli incidenti. In questo caso è stato accertato con la perizia disposta dalla propria repubblica che la velocità del SUV che ha impattato contro l'auto di Elenia viaggiava a 70 km orari. Tutto adesso è stato rinviato al prossimo 16 novembre per la nomina di un perito d'ufficio che dovrà analizzare tutti gli atti e consegnare poi una relazione.